15 comuni, un solo grande brand. Fano, Cartoceto, Cogli al Metauro, Fossombrone, Fratterosa, Monbaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Felcino, Monte Porzio, Bergola, San Costanzo, Sant'Ippolito, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche. Tutti insieme per far ingranare al turismo una marcia ancora più alta. Merito del progetto denominato Valli a Scoprire, che comprende un nuovo logo e un unico grande portale in grado di mettere in vetrina le bellezze di Fano e delle vallate dei fiumi Metauro e Cesano. Tutto questo anche grazie al lavoro e alla professionalità dei Maggioli Cultura e dell'agenzia DMP Concept. Il turismo non è personale, non è di una città, ma deve essere di un territorio completo, di una regione completa e di una nazione. Per questo che dal 4 febbraio siamo partiti con questo protocollo con l'intento di unirci, 15 comuni della Vallata del Metauro per dare valore a tutto il nostro territorio e riuscire meglio ad entrare nei mercati. Abbiamo deciso di fare una prima azione forte e concreta, quella di darci un nome, di darci una veste, di darci un'immagine. Oggi nasce Valli a Scoprire con un logo anche molto colorato, molto suggestivo, che rappresenta veramente tutte le città e con un portale che sarà il vero grande strumento fatto nel 2021. Sarà un DMS e un portale di presentazione del nostro territorio che racconterà le esperienze che si potranno vivere nel territorio, racconterà i comuni, racconterà le esperienze e gli itinerari realizzati dalle associazioni di categoria, dalle singole proloquo associazioni del territorio, di singole imprese che vorranno inserire all'interno dello stesso le loro attività da far vivere ai vari turisti. Sarà una web app utilizzabile da cellulare che ci darà con i classici PIN la possibilità di capire dove le singole esperienze, dove si possono vivere, dove si possono visitare i luoghi del nostro territorio. Quindi veramente sarà una vetrina a 360 gradi sul territorio delle vallate del Metauro del Cesano, comprese in 15 comuni che risplenderanno nel mercato con questo nome che abbiamo voluto dare, che è Valli a Scoprire. Quindi un messaggio che vogliamo lanciare che è quello di venire a scoprire il nostro territorio. Il segreto è fare rete, la priorità è offrire le esperienze. Quando una persona arriva in un territorio oltre a fermarsi a vivere l'esperienza del mare vuole anche pensare di andarsi a fare una passeggiata, un momento di trekking ad esempio nelle nostre colline, piuttosto che come conosciamo vivere il carnevale, vivere la storia di Vitruvio, vivere i musei interni, vivere i borghi, vivere l'esperienza in canoa alle marmite dei giganti, mangiare tartufo, mangiare brodetto oppure altri piatti tipici, magari capire come il tartufo si può andare a trovare direttamente. Quindi tutto questo si potrà fare semplicemente andando in questo portale, ricercando l'esperienza che uno desidera di più e poi andandola a prenotare direttamente. Una cosa molto semplice, la prenotazione diretta arriverà direttamente all'operatore che dà questo tipo di servizio in modo che le due persone, quindi il turista da una parte e la persona che aspetta il servizio, arrivano immediatamente in contatto. Ognuno di noi ha delle incredibili ricchezze che rendono però tutto questo territorio estremamente interessante e attrattivo per il turismo di oggi. Certo ognuno di noi da solo non può avere l'attrattiva che può avere un territorio così completo e certamente fare un progetto di questa portata e integrarsi tra comuni è la strada migliore, ognuno per far conoscere le proprie peculiarità, le proprie ricchezze. Io credo che questo progetto sia un modello da esportare anche in altri territori. Noi recentemente come regione abbiamo approvato il piano annuale e triennale del turismo e uno degli obiettivi, una delle missioni è proprio quella di creare degli ambiti turistici dove i comuni collaborano insieme per promuovere appunto il territorio in cui viviamo. Quindi io penso che questo ambito, questi 15 comuni siano un bel esempio di collaborazione, di promozione turistica e mi auguro ecco anche magari di poter accogliere meglio i turisti per dargli un pacchetto più completo.